Carissimi fedeli e cari amici tutti di Acireale e della Diocesi, sono di nuovo qui ad augurarvi ancora quest'anno Buon Natale. Gesù Bambino viene nella nostra casa, nei nostri cuori, cioè Gesù Bambino ha fiducia in noi, vuole riguadagnarci alla sua amicizia facendosi uno di noi, immedesimandosi in noi e dandoci così contemporaneamente alcune grandi lezioni. Primo che la dignità umana si può riacquisire attraverso l'entrare l'uno nell'altro, immedesimarsi, amarsi, la fraternità può nascere proprio se ricominciamo da capo a stimarci, a dare fiducia all'uno nei confronti dell'altro così come Dio la dà a noi nel Bambino Gesù e poi si mette nelle nostre mani e quindi affidarci anche l'uno con l'altro. Quando ci affidiamo? Ma nei lavori di ogni giorno noi ci affidiamo a tutti quelli che ci fanno dei servizi e noi tentiamo di renderne agli altri. Nella vita familiare l'uno si affida all'altro per mille piccole cose quotidiane, senza questa fiducia, questo affidamento, questo fidarsi di ciò che l'altro fa per me, può fare per me, può darmi e che non è possibile rendere sempre in soldi, in denaro, in prezzo, in guadagno, ma c'è soprattutto il grande rapporto, la grande relazione di amicizia, di fraternità e di amore. Che Gesù Bambino dunque ci insegni sempre di più ad apprezzare questa forza delle relazioni che riguadagna la nostra dignità e ci fa crescere insieme in spirito di amicizia. Dunque buon Natale, buon Natale a tutti, agli anziani, ai bambini, ai giovani, soprattutto ai giovani che guardano spesso con incertezza al futuro. Buon Natale alle famiglie, ai lavoratori, a chi un lavoro non ce l'ha e lo cerca e lo vorrebbe davvero. Buon Natale agli anziani, buon Natale a tutti.